E' andata bene, in realtà ce ne sarà un'altra che forse sarà quella conclusiva a marzo e abbiamo ascoltato il testimone della difesa semplicemente, ne manca ancora una che non era presente e sostanzialmente questo insomma. Quando facciamo le azioni già sappiamo quello che potrebbe succedere. Quindi sì, siamo comunque pronti, pronte per qualsiasi cosa possa accadere, siamo comunque un pochino dispiaciuti per il fatto che il nostro governo è molto veloce nel reprimere le persone che come noi vogliono portare l'attenzione su questo argomento che è importantissimo, che ci riguarda tutti e che crea molto disagio e disperazione fra le persone che hanno la mia età. Invece è molto veloce, ed è qui che vorremmo mettere il punto e sottolineare questa cosa, è molto veloce appunto contro di noi ma è molto lento invece nelle persone che attualmente hanno perso tutto, si trovano in gravi difficoltà perché ad esempio in Emilia e in Toscana le famiglie, le persone hanno perso il lavoro di una vita, hanno perso i propri cari ma il governo invece che essere veloce nel aiutare queste persone è molto lento a dargli soldi e mandargli aiuti, al contrario è veloce con noi.